E sul tema è intervenuto questo pomeriggio in apertura della seduta del Consiglio Comunale l'assessore alle infrastrutture della mobilità Antonio Piu che ha risposto alle segnalazioni presentate degli esponenti di maggioranza Francesca Arcadio e Marco Manca. Non c'è nessuna correlazione tra i lavori per la realizzazione della pista ciclabile e il cedimento dell'asfalto nella corsia di marcia in via Diaz. Si tratta di una vecchia condotta fognaria sulla quale il Comune non è competente. E Abanoa sta già intervenendo a sue spese. Ha spiegato all'assessore che ha aggiunto il cordolo è una novità per Sassari in quanto tale ha bisogno di essere assimilata. Si tratta di un cambio culturale, quello legato alla mobilità sulle biciclette che ha bisogno di tempo. Una volta che l'intera infrastruttura delle piste ciclabili sarà ultimata vedremo se e quali modifiche introdurre. La mia tranquillità da amministratore deriva dal fatto che sono state osservate le leggi ma comprendo le osservazioni sul restringimento della carreggiata e su tutte le altre problematiche emerse finora. Così dunque ha concluso l'assessore Antonio Piu.